Mancano pochi giorni al 2 maggio. Il termine è fissato dall'amministrazione comunale per presentare le candidature per le nuove elezioni dei consigli di quartiere che si svolgeranno a Faenza dal lunedì 5 giugno al lunedì 12 giugno. In attesa della schedenza, i presidenti uscenti dei consigli di quartiere hanno incontrato comune stampa per tracciare un bilancio della loro esperienza come punto di riferimento per i feintini. Sono così arrivate critiche dell'oggi e le giunte che si sono alternate durante l'ultimo lungo mandato in merito al rapporto instaurato con i vari consigli di quartiere. Da una parte, l'amministrazione è stata giudicata molte volte lenta nel risolvere i problemi dei cittadini una volta promessa una soluzione. In altri casi, è mancata la comunicazione invece riguardo ad interventi e ad altri lavori organizzati dal comune senza informare i quartieri. Partecipazione o comunque costante informazione, le parole chiavi che potrebbero migliorare il dialogo fra i due organi come appunto avviene per il bilancio partecipato. Molto positive, d'altro canto, sono state giudicate le esperienze del Tantama legato alla sicurezza e la collaborazione instaurata fra i vari quartieri. Dai rappresentanti uscenti è inoltre arrivato un monito ai futuri possibili candidati. Il consigliere di quartiere è un compito volontario ma che richiede tempo e impegno. Vorrei ringraziare nuovamente, come ho fatto un attimo fa, i presidenti del quartiere per il lavoro che hanno fatto fino a oggi, per la tenacia che hanno avuto, per la costanza che hanno avuto e che hanno portato avanti anche oltre i termini, seguendoci in parte nel tentativo di rivedere, questo tentativo che abbiamo portato a termine, con il nuovo regolamento di rivedere un po' il ruolo dei quartieri proprio come luogo non solo di rappresentanza ma anche di partecipazione. Questo naturalmente richiede uno sforzo grosso da parte nostra, anche di amministrazione, nel condividere il più possibile le informazioni con loro, con i quartieri, nell'ascoltare non con un atteggiamento di facciata ma nell'entrare in profondità nella relazione con queste persone che portano poi in qualche modo non solo delle segnalazioni che raccolgono i cittadini ma il risultato in qualche modo di una mediazione, di un dibattito, quindi di un ragionamento collettivo. A me piace molto pensare i gruppi di decisione come intelligenze collettive, lo è la Giunta, lo è il Consiglio Comunale, lo sono anche i consigli di quartiere, che sono luoghi dove le informazioni non solo arrivano ma vengono in qualche modo elaborate, dove tutti ci possono mettere un po' del proprio. Quindi naturalmente io metto la mia faccia e il mio impegno a nome di tutta la Giunta che mi segue in questo impegno nel cercare il più possibile per quanto riguarda i prossimi anni che restano del nostro mandato di dare riscontro a quello che è il rapporto con i quartieri. Chiedo d'altra parte a tutti i miei concittadini di interessarsi, ecco questa è la parola che mi muove, mi interessa. L'amministrazione pubblica mi interessa, la mia città mi interessa, è giusto e corretto lamentarsi quando si va incontro ai disagi, si verificano che ci sono delle mancanze e delle carenze di servizio, è altrettanto giusto a mio parere metterci del proprio. E qui non parlo di sostituirsi volontariamente nell'erogazione dei servizi che l'amministrazione deve comunque ai cittadini, ma parlo di contribuire con i propri contenuti anche in termini propositivi, a portare questi contenuti, a elaborarli e a cercare di costruirli insieme. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, chiedo a tutti i miei concittadini di venire, bussare alla porta, di partecipare. Un elogio che è stato fatto da questa amministrazione è stata la volontà di mettere i quartieri a collaborare l'uno con l'altro, proseguirà con i nuovi consigli? Assolutamente, l'intenzione è quella, come dicevo un attimo fa, di aprire il più possibile alla collaborazione. Non ci interessa, non mi interessa che i quartieri siano luoghi dove vengono servite delle pietanze precucinate, quindi più siamo a condividere, più si è a condividere, quindi anche trasversalmente fra i vari quartieri, più aggiungiamo ricchezza di contenuti all'azione che noi cerchiamo di portare avanti. Credo che le cose più interessanti che siano venute fuori dai quartieri nel loro ultimo mandato siano proprio nate da queste forme di collaborazione trasversale. Quindi auspico che all'interno dei nuovi consigli ci siano persone disponibili a un confronto franco, che chiaramente non significa essere accondiscendenti, anzi mi aspetto anche, e credo che sia fortemente necessario che un'amministrazione abbia dall'altra parte, nei cittadini, nell'associazionismo fra i cittadini, quindi anche nei quartieri, una sponda solida, quindi qualcuno che non dica sempre di sì, qualcuno che non contrapponga delle negazioni di bandiera, ma che sia in grado proprio di ribattere la palla in modo serio. In questo modo si può crescere insieme.